Gli occhi e il sorriso dicono molto di noi, e oggi faremo un semplice test per saperne di più sulle nostre espressioni. Con un sorriso vero, genuino, gli angoli della bocca si alzano e gli occhi si restringono e si corruggano agli angoli. Un sorrisetto compiaciuto o un sorriso parziale che segue una microespressione di dispiacere o disprezzo può suggerire incertezza, disprezzo o antipatia. Un sorriso accompagnato da un contatto visivo duraturo, uno sguardo lungo o un'inclinazione della testa possono suggerire attrazione, gli occhi che lampeggiano possono rivelare forte stress, preoccupazione o disagio. Le tue pupille in genere si dilatano quando ti senti positivo verso qualcosa o qualcuno. Questi sentimenti potrebbero implicare un'attrazione romantica, ma non è sempre così. La dilatazione avviene in risposta all'eccitazione del tuo sistema nervoso, quindi potresti anche notare pupille dilatate quando qualcuno è arrabbiato o spaventato. Gli alunni di solito si contraggono o diventano più piccoli quando qualcosa non gli piace. Se stai parlando con qualcuno i cui occhi continuano a bagare verso il tavolo del buffet, potrebbe avere più interesse a mangiare che a parlare in questo momento. Qualcuno che guarda verso l'uscita potrebbe voler andarsene. Le persone tendono anche a spostare gli occhi in basso o di lato quando, lavorando su un problema, richiamare informazioni o ricordi pensando a qualcosa di difficile. E' interessante notare che, anche le braccia incrociate possono suggerire fiducia. Se qualcuno incrocia le braccia mentre sorride, si appoggia all'indietro o mostra altri segni di sentirsi a proprio agio, probabilmente si sente in qualche modo in controllo della situazione, piuttosto che vulnerabile. E le gambe possono mostrare nervosismo e irrequietezza attraverso l'oscillazione delle gambe passando da un piede all'altro. Le gambe incrociate possono anche suggerire una riluttanza ad ascoltare ciò che qualcuno ha da dire, soprattutto quando anche le braccia sono incrociate. Anche i piedi possono rivelare informazioni. Nota la direzione in cui sono rivolti i piedi di una persona durante una conversazione. Se i loro piedi puntano altrove, potrebbero avere più voglia di lasciare la conversazione che di continuarla. Se i suoi piedi puntano verso di te, è probabile che la persona si stia godendo la conversazione e spera di continuarla. I punti chiusi possono suggerire rabbia o frustrazione, specialmente in qualcuno che cerca di sopprimere queste emozioni. Toccare istintivamente la guancia potrebbe segnalare che qualcuno sta valutando qualcosa con attenzione o ha molto interesse per quello che stai dicendo. Appoggiarsi allo schienale di un muro o di un altro supporto può suggerire noia o disinteresse. Stare dritti con le mani ai lati è una posizione di riposo comune che suggerisce la volontà di impegnarsi e ascoltare. Appoggiare la testa in una mano può mostrare interesse. Quando entrambe le mani sostengono la testa, potrebbe suggerire noia o affaticamento.